Buonasera a tutti, allora cominciamo il nostro evento. Io mi presento, sono Lorenzo Marretti, volontario del Servizio Civile Regionale presso le Stanze della Memoria, percorso museale di storia e memoria del 900 senese. Patrimoni violati, cultura, arte e ambienti in scenari di guerra. Questo è il titolo dell'evento che abbiamo organizzato, che ho organizzato assieme alle mie colleghe di Servizio Civile Regionale che operano qui presso il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici, Chiara e Christel, perché è un evento dedicato ai patrimoni violati? Diciamo che, al caso Ucraina, diciamo che quello che si sta consumando in Ucraina è una guerra particolare, particolare perché in sé è antica e moderna, anzi post-moderna mi verrebbe da dire, antica per quanto riguarda l'aspetto militare, moderna o post-moderna per quanto riguarda il flusso di informazione. Tutto il tema della post-verità, per esempio. E quindi questo costante flusso di informazioni ci porta a vivere in una costante istantocrazia, mi verrebbe da dire. Un'istantocrazia che può farci perdere di vista aspetti comunque importanti che rischiano di non essere trattati a dovere. Qual è quindi la miglior medicina all'istantocrazia? L'eternità, credo. La stessa eternità che si prova di fronte a un monumento, sia esso artificio della creatività dell'uomo, sia esso naturalistico, in questo caso l'Ucraina è ricca di entrambi. Ecco, quando la furia della guerra porta via anche questo, anche questo patrimonio, che cosa ci resta? Quindi per questo era doveroso trattare un argomento così delicato e così complesso. Perché di fronte a certi monumenti, cioè è come se a Siena ci togliessero la Torre del Mangia, oppure a Firenze togliessero la cupola del Brunelleschi. ci tolgono qualcosa che sarà sempre lì ad accoglierci, qualsiasi sarà la nostra vita, qualsiasi siano le nostre dinamiche. E quindi quando viene a mancare questo, per riprendere un concetto tanto caro a un filosofo francese che si chiama Henri Bergson, è come se venisse a mancare la coscienza stessa della storia. Per un giovane aspirante storico come me, me lo dice sempre la direttrice delle Stanze della Memoria, Laura Mattei, il compito morale di uno storico e per estensione di uno studioso è quello di servirsi del presente per raccontare il passato al futuro. In tempi come questi, in una situazione come questa, io credo, noi crediamo che questo compito diventi ancora più importante e impellente. E oggi, grazie anche ai nostri relatori, cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo. Io vi ringrazio, vi auguro buon ascolto e passo la parola a Cristela Agnello. Allora, intanto grazie a tutti per essere qui con noi. Direi che è giunta l'ora di dare via a questa iniziativa. Io sono Cristela, appunto come ha detto Lorenzo, sto svolgendo il servizio civile qui all'Accademia dei Fisiocritici insieme alla mia collega Chiara Nencini. Ricordo inoltre a tutti i relatori di rispettare i tempi previsti per ogni intervento, quindi di 15 minuti, 20 minuti circa. Ricordo anche chi è in collegamento con noi da casa che alla fine dell'evento ci sarà uno spazio riservato alle domande, quindi potete scrivere nella chat e alla fine le leggeremo. Quindi passerei la parola al nostro primo relatore, Tommaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università Berstranieri di Siena. Il professore introdurrà il nostro evento dal titolo Patrimoni violati, cultura, arte e ambiente in scenari di guerra, il caso Ucraina, e parlerà soprattutto del concetto appunto di patrimonio. Grazie professore, ha la parola. Grazie per l'accoglienza, grazie all'Accademia dei Fisiocritici, grazie a chi ha voluto, pensato, organizzato questo momento di incontro. Ne abbiamo molto bisogno. Una delle conseguenze di questa guerra, sappiamo che non è l'unica guerra nel mondo, il giorno in cui Putin ha invaso l'Ucraina, per puro caso presentevamo nella nostra Università alla Stranieri l'Atlante delle Guerre, che ne censisce ogni anno tutte quelle censibili, e sono circa 150. Ma una guerra così, così vicina, così nel cuore dell'Europa, inevitabilmente ci porta a... ci coinvolge, ci fa sentire coinvolti in modo viscerale. Ho avuto occasione di ripubblicare, per i tipi del gruppo Abele, un piccolo libro di Tolstoi del 1904, contro la guerra russo-giapponese. Il titolo è Ricredetevi, cambiate opinione, un libro che fu proibito subito dallo zar, ma clandestinamente uscì in tutta Europa. Tolstoi dice, ho scritto questo libro, perché quando si parla della guerra, ci si chiede che cosa faranno gli attori, i generali, i presidenti, gli imperatori, i soldati, gli eserciti. Non ci chiediamo cosa dobbiamo fare noi, cosa dovremmo fare noi che in guerra non siamo, che cosa fare, quali sono le conseguenze della guerra sulla nostra mentalità, sulla nostra lingua, sul nostro modo di guardare al mondo. E in questa domanda che invece ci dobbiamo porre, c'è anche la preoccupazione per il patrimonio, per il patrimonio culturale, per il patrimonio ambientale, per il patrimonio naturalistico. In Italia, patrimonio culturale è un'espressione che anche con il codice identifica con l'unione di paesaggio, e cioè di territorio. La Corte Costituzionale l'ha chiarito, la biosfera, con ciò che l'uomo ha costruito, del patrimonio storico e artistico. Cosa sta succedendo a tutto questo? Può sembrare perfino colpevole preoccuparsi delle cose quando sono gli uomini a morire, ma sappiamo quanto il corpo sociale, il corpo collettivo, è che è fatto anche di tutte queste cose, che in parte sono cose vive, l'ambiente, il territorio, la natura, ma anche il patrimonio culturale è vivo, sappiamo quanto questo sia vero, è importante per la sopravvivenza delle collettività e la possibilità di un futuro. Preoccupandosi dei patrimoni, ci preoccupiamo del futuro della comunità, della società ucraina, che è parte della società e della comunità europea e umana. dentro il mio corso, che è quello di educazione al patrimonio culturale, uno dei seminari, voglio ringraziare Esther, la dottoressa Esther Santori, a cui era stato affidato, è stato proprio sul patrimonio culturale dell'Ucraina in guerra. Credo che sia importante occuparsi di tutto questo nell'università. Non è facile farlo, non è facile farlo su un piano scientifico, per la banale ragione che sappiamo molto poco di quello che sta succedendo in Ucraina da questo punto di vista. L'UNESCO, come tutta l'ONU, è fuori da questa guerra. E questo è un primo dato da sottolineare. Nella retorica corrente, che comporta poi tutte le divisioni di opinione che qua non vorrei minimamente affrontare, è giusto dare le armi agli ucraini che si difendono, ciò che non si è potuto fare per l'evidente problema del fatto che la Russia siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è pensare la cosa più ovvia, cioè dividere i contendenti con una forza di interposizione, con i caschi blu. Questo non si è potuto fare. E questo riguarda i corpi, ma riguarda anche le cose. Cioè non si è potuto avere accesso al patrimonio. Dunque le notizie che noi abbiamo su ciò che sta succedendo al patrimonio in Ucraina viene dai due governi in conflitto e soprattutto dal governo dell'Ucraina. e questo è un problema perché è una fonte parziale che naturalmente è una fonte di un paese occupato in guerra che ha il diritto di usare anche la propaganda. Noi in questo momento in realtà non abbiamo informazioni se non quelle che ci vengono mostrate. L'illusione che di questa guerra stiamo vedendo tutto è un'illusione in realtà, sappiamo bene, che non stiamo affatto vedendo tutto. come ci dicono le autorità dell'UNESCO lo ha detto molto chiaramente in una intervista Lazzar Elundo Assomo, il direttore del World Heritage Center dell'UNESCO rilasciata pochi giorni fa a Le Monde cosa è successo lo sapremo alla fine del conflitto in realtà. Questo non vuol dire che non possiamo parlare. Possiamo usare dei dati sapendo che sono dati parziali. Il dato più recente che io ho trovato è l'aggiornamento del Ministro della Cultura ucraino in un briefing al centesimo giorno di guerra pochi giorni fa in cui ha detto che la Russia ha distrutto 370 siti del patrimonio culturale dell'Ucraina. Non sappiamo cosa voglia dire distrutto, colpito, distrutto completamente, danneggiato. Non si tratta dei sette siti dichiarati patrimonio dell'umanità per ora ma questo non ci consola per nulla. Sappiamo perfettamente che il patrimonio culturale è esattamente un corpo è un contesto. Sono monumenti secondo il governo ucraino che più che per oltre la metà coincidono con chiese. Il fatto che ucraini e russi condividano in massima parte la pratica della religione cristiana ortodossa non toglie nulla al fatto che le chiese vengano colpite colpite fino in certi casi a distruggerle. Qui si pone un problema di interpretazione. Il patrimonio culturale è subisce danni collaterali alla guerra o è un obiettivo di guerra? Questo è un primo problema assai rilevante da capire e sarà fondamentale per ciò che succederà dopo la guerra. Colpire deliberatamente dei siti culturali protetti come tali sui quali ai sensi della convenzione dell'AIA del 54 ma anche ai sensi delle sue antenate 1899 e 1907 significa apporre lo scudo blu con la corroce di Sant'Andrea inquartata nello scudo appunto blu e bianco. Colpire deliberatamente siti segnalati in questo modo è un crimine di guerra e come tale andrà poi perseguito a guerra finita. Si tratta come il governo ucraino sostiene di una deliberata distruzione che colpisce l'identità culturale ucraina o si tratta di danni collaterali? Potrà sembrarvi una domanda oziosa ma invece è una domanda che andrà posta. Ci sono degli indizi che fanno pensare che almeno in parte siamo di fronte anche a un'offensiva che voglia cancellare la specificità di una cultura ucraina rivendicando una totale appartenenza dell'Ucraina alla cultura russa. Questo è vero per la lingua lo sappiamo molto bene sappiamo che è stato distrutto un museo il museo dedicato a un poeta Scoforoda non so se lo pronuncio bene un museo che era la sua casa isolata nella campagna è stata colpita deliberatamente evidentemente non era vicino a nessun obiettivo sensibile così come è stata colpita più volte gravemente la statua di Taras Shevchenko a Borodianca subito fuori Kiev colui che è considerato il padre della lingua ucraina e che già Nicola I nel 1847 obbligò a non scrivere e a non dipingere era anche pittore sotto la più stretta sorveglianza e qui c'è un problema di una guerra che non nasce oggi non solo perché inizia nel 2014 ma perché ha una storia molto antica quando Putin ha nella sua dichiarazione di guerra di quella che non vuole che si chiami una guerra ha detto che l'Ucraina moderna è stata interamente creata dalla Russia o per essere più precisi dai bolshevichi dalla Russia comunista in un discorso che è un discorso di manipolazione storica anche i governi occidentali usano la manipolazione del passato paragonare la resistenza ucraina alla resistenza italiana comunque la si pensi è un'operazione insensata sul piano scientifico qualunque sia lo scopo nobile o meno nobile gli storici sanno che quando la storia finisce nelle mani dei governi anche dei parlamenti e dei paesi in guerra il risultato non ha nulla a che fare con la storia che si insegna nelle università nel caso di Putin quel discorso è stato una smaccata operazione di manipolazione della storia nella quale può rientrare molto probabilmente anche questa fattispecie cioè il desiderio di creare a posteriori le prove di quello che ha affermato cioè quello che si potrebbe chiamare un genocidio culturale cancellare le tracce culturali in modo da poter dire che ciò che si era dichiarato cioè l'assenza di una cultura ucraina indipendente da quella russa fosse vero e questo è particolarmente grave e particolarmente insidioso naturalmente il governo ucraino ha tutto l'interesse a dimostrare che questo succede e quello che l'unica cosa che noi dovremmo avere per poter fare un discorso fondato cioè un'informazione terza non ce l'abbiamo almeno per ora e credo che non ce l'avremo fino a che il conflitto non sarà finito l'invito è quello di come dire esaminare con grande attenzione le notizie che arrivano vagliarle e chiedere io credo come comunità scientifica nel modo più forte e corale la possibilità di un accesso terzo al patrimonio questa richiesta è fondata in un'idea che affonda le sue radici in una storia lunga e che inizia come minimo dalla rivoluzione francese e cioè l'idea che qualunque opera d'arte dei patrimoni nazionali in realtà appartenga e costituisca e contribuisca a costituire il patrimonio culturale unico dell'umanità questo è diciamo al di là della dichiarazione della lista dei beni dell'umanità sta alla base esplicitamente delle convenzioni internazionali che proteggono il patrimonio in guerra il patrimonio è un patrimonio nazionale ma è anche un patrimonio dell'umanità vorrei dire che l'Italia da questo punto di vista è il paese in cui questo è più evidente perché il nostro patrimonio culturale che ha avuto a che fare con l'impero romano e con la chiesa cattolica che vuol dire universale si forma fin dall'inizio come un patrimonio sovranazionale universale che è la ragione per cui e questa è una cosa felicissima che riguarda l'Italia nella nostra Costituzione l'unico articolo fondamentale tra i dodici in cui compaia la parola nazione è il nove e la parola nazione compare in relazione al paesaggio al patrimonio alla cultura e alla ricerca cioè si prende atto che la nostra è una nazione per via di cultura e dunque per definizione e quindi non per sangue per etnia nemmeno per lingua che non è nominata e dunque per definizione una nazione meticcia in cui gli apporti greci arabi spagnoli francesi la lista sarebbe infinita sono come dire esplicitati in un momento in cui in Costituente si diceva il presidio della nazione non sarà più l'esercito ma la scuola e ci si rallegrava che i soldi destinati all'esercito non potendoci riarmare sarebbero stati destinati alla scuola ricordo che per inciso in questo momento stiamo andando verso il 2% del PIL in armamenti la spesa per tutta l'università italiana è lo 0,3% del PIL a proposito di ribaltamento del progetto costituzionale chiusa la parentesi e l'inciso ma la parola nazione può stare lì perché noi sappiamo molto bene che il nostro essere una nazione per via di cultura non ci chiude nel rapporto con il mondo con l'umanità ma ci apre quando nel 1796 si discute sulla opportunità o meno di portare in Francia il meglio del patrimonio culturale italiano le truppe rivoluzionari e poi napoleoniche con l'idea di un grande museo europeo che si farà a Louvre la voce più alta del dibattito è quella di Antoine Catremer de Quincey un architetto rivoluzionario francese che scrive una serie di lettere a una meravigliosa figura di generale rivoluzionario venezuelano amico di Washington un incrocio fra un Garibaldi e un Che Guevara venezuelano che nella sua casa di Londra e in quella di Parigi ospitava un circolo culturale è un francese a dire non toccate il patrimonio culturale di Roma e dell'Italia perché non è degli italiani ma è dell'intera umanità gli italiani ne sono custodi parola che oggi la laudatotisi di Francesco ha riportato nella definizione del rapporto col creato in chiave cattolica religiosa con l'ambiente in chiave laica l'idea non di possesso ma di custodia quando ci chiediamo che diritto abbiamo di occuparci del patrimonio ucraino abbiamo il diritto di farlo come membri dell'umanità e vorrei dire simmetricamente che bisogna rigettare le tentazioni nazionalistiche di colpire la cultura russa perché cultura di un paese in guerra il fatto che l'università italiana abbia vietato un seminario su Dostoievski che poi la stranieri ha ospitato quello di Paolo Nori chiedendo dopo lo scandalo di equilibrarlo con un seminario su autori ucraini è il sintomo della caduta della logica scientifica della conoscenza dentro una logica di guerra ciò che non deve accadere in questo momento la nostra università ha stanziato un bel po' di soldi e stiamo dando cinque contratti di ricerca che potranno durare fino a tre anni retribuiti come un professore associato per tre colleghi ucraini e due colleghi russi gli uni in fuga dalle guerre i secondi dalla tirannia dobbiamo ricordarci che Dostoievski non ha colpe e neanche Tolstoi chiudo credo di essere arrivato al mio tempo alla fine ho portato due libri che possono magari farsi circolare con un po' di prudenza perché sono antichi per far capire quanto questa vicenda ci riguardi riguardi la nostra storia questo è un libercolo pubblicato nel 44 nell'Italia ancora non liberata la guerra contro l'arte è un libro fascista che però è utilissimo perché fotografa sono le prime fotografie stampate sul patrimonio colpito c'è l'osservanza di Siena ci sono moltissimi monumenti naturalmente è un libro di propaganda che dice gli americani gli alleati stanno distruggendo l'Italia sappiamo che questo è un vero problema ci hanno liberato ma i bombardamenti alleati sull'Italia furono come dire un massacro indiscriminato di uomini e di cose che si poteva evitare e su questo si apre un enorme dibattito sappiamo l'enorme dibattito che si aprì dopo le bombe nucleari sganciate dalla parte giusta ma con quello che oggettivamente era un crimine di guerra centinaia di migliaia di morti innocenti sono foto impressionanti che sono sempre sbalorditive per i più giovani il nostro patrimonio è stato ricostruito così si chiamavano i volumi del ministero dell'istruzione dopo la ricostruzione non il restauro la ricostruzione del patrimonio culturale italiano questo è un libro più antico è un libro del 1917 Ugo Oietti i monumenti italiani e la guerra a cura dell'ufficio speciale del ministero della marina ciò che succede nella grande guerra leggo velocemente solo due passaggi e poi potrà circolare anche questo alle foto ci dimentichiamo che i bombardamenti subiti da Venezia dalle navi austriache i primi bombardamenti con esplosivi legati a palloncini avvengono in questo momento e i primi bersagli sono le opere d'arte deliberatamente già gli incid... come dire nel 1917 si ha già due anni di guerra alle spalle nel 1915 si chiedeva Oietti del resto non vigeva l'articolo 56 della convenzione dell'AIA firmata da 44 stati anche dalla Germania e dall'Austria citazione i beni dei comuni e quelli degli istituti consacrati al culto alla carità e all'istruzione alle arti e alle scienze anche se appartenenti allo Stato saranno trattati come la proprietà privata e dunque non colpiti il soprintendente dei monumenti del Veneto aveva mandato al governo una sua proposta particolareggiata per mettere un ospedale in Palazzo Ducale una gran croce rossa sulla copertura di piombo del palazzo e tutto sarebbe stato salvo dopo i primi bombardamenti vi fu chi pensò di ordinare che si segnalassero in obbedienza la detta convenzione con rettangoli divisi diagonalmente in due triangoli uno bianco e uno nero tutti gli edifici che senza essere ospedali erano indicati da quell'articolo 56 il patrimonio culturale l'utilissimo lavoro fu anche cominciato ma fu sospeso quando si accorsero che bisognava solo per gli edifici sacri all'arte coprire con quei rettangoli tre quarti di Venezia il problema dell'estensione del patrimonio culturale che in un paese come l'Italia ma anche in Ucraina e in tutta l'Europa in Italia in grado particolare coincide con l'ambiente in cui si vive ed è questo il patrimonio culturale non è il museo è il luogo dove si vive la guerra come inizia ora la guerra fu dichiarata la sera del 23 maggio 1915 la mattina del 24 alle 5 due idrovolanti nemici apparvero alla città che tutta rosea si liberava appena dagli azzurri veli della notte la città è Venezia quegli idrovolanti le lanciarono quattro bombe la stessa mattina una squadra di navi austriache postasi davanti ad Ancona porto non più fortificato lanciava sette proiettili di grosso calibro contro la cattedrale di San Ciriaco ben visibile dal mare isolata com'è sulle pendici del monte sei proiettili colpirono la chiesa uno la torre campanaria si descrivono i danni qui ci sono le foto non era un danno collaterale il primo obiettivo il primo obiettivo della prima guerra mondiale in Italia furono i monumenti naturalmente Oietti dice sono i tedeschi che da secoli dai tempi di atti la sono invidiosi dell'arte italiana vogliono distruggere Oietti diventerà fascista fiero sostenitore dell'alleanza con i tedeschi pochi anni dopo e questo come dire chiude il cerchio della nostra storia questi possono circolare se lì volete vedere tutto questo per dire che un'occasione come questa è assai opportuna spero che sia l'inizio di una nostra tensione locale ma importante perché credo che sull'UNESCO e sulle nostre stesse istituzioni anche sul ministerio dei beni culturali Franceschini parlava dei caschi blu del patrimonio eccetera in tempo di pace è facile fare propaganda ma quando cominciano le guerre tutto si squaglia al sole credo che una pressione dal basso che faccia dire che non proteggiamo le cose ma anche in questo modo proteggiamo le persone perché le cose non hanno diritti i diritti collegati al patrimonio culturale sono i diritti delle persone questo davvero è importante grazie grazie mille professore per il suo intervento mi sento di dire che è veramente importante capire la differenza tra la distruzione del patrimonio intenzionale quindi come obiettivo di guerra e non intenzionale quindi come diciamo danno collaterale perché penso che nel primo caso si intenda l'obiettivo sia quello proprio di offendere direttamente la comunità che in realtà riflette in quel bene la propria identità quindi è un veramente un concetto importante la ringrazio e a questo punto passerei la parola invece al professore Federico Lenzerini docente di diritto internazionale dell'Università di Siena che incentrerà il suo intervento in maniera particolare su come il diritto internazionale si sia occupato si sta interessando al tema del patrimonio in questo caso violato grazie professore ha la parola grazie grazie mille a voi anche io voglio ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a questo evento che non vorrei ripetere troppe parole di quelle del professor Montanari ma trovo anch'io assai opportuno soprattutto per creare una consapevolezza che è quanto più necessaria direi che nelle mie riflessioni ho condiviso molti degli aspetti che sono già stati citati dal professor Montanari in particolar modo l'importanza del patrimonio culturale che va molto al di là del patrimonio stesso ma costituisce un elemento imprescindibile dell'identità culturale dei popoli il patrimonio culturale può essere visto sotto accezioni diverse però queste accezioni sono tutte presenti normalmente in tutti gli elementi del patrimonio culturale c'è l'accezione materiale tangibile che ci porta soprattutto all'idea già citata dal professor Montanari del patrimonio come elemento che va a comunare l'intera umanità nella protezione e valorizzazione di di un'identità che ci arricchisce tutti vicendevolmente attraverso i rapporti con gli altri attraverso anche l'arricchimento personale che il patrimonio culturale ci dà giorno dopo giorno nella nostra vita c'è l'aspetto intangibile immateriale del patrimonio culturale che negli strumenti internazionali in realtà viene trattato separatamente da quello tangibile però se noi andiamo a vedere l'importanza che è un elemento del patrimonio culturale per gli esseri umani ci accoggiamo molto facilmente che in realtà i due elementi sono strettamente connessi l'uno con l'altro basti pensare al patrimonio religioso il professor Montanari ha appena detto che la metà dei beni culturali che si ritengono danneggiati dalle azioni militari russe sono chiese o comunque edifici religiosi il patrimonio religioso ci attrae per la sua bellezza per il valore artistico architettonico e via discorrendo ma allo stesso tempo e forse aspetto ancora più importante è l'elemento spirituale che lo qualifica come fondamentale nell'identità delle persone e delle comunità ed è proprio questo elemento spirituale che normalmente si va a colpire con la distruzione dei beni culturali ci sono tantissimi esempi sfortunatamente nella storia dai tempi dei romani o anche precedentemente fino ai giorni nostri e alcuni di essi sono purtroppo saliti agli onori della cronaca proprio per la tenacia con cui coloro che perpetrano queste situazioni di distruzione del patrimonio culturale e le vogliono portare a compimento mi permetto di fare una citazione anch'io da un libro che però non sono molto originale perché in realtà si tratta di un libro conosciutissimo da tutti che è il principe di Machiavelli tra le varie perle che noi troviamo in questo testo e che ci vengono spesso riproposte come frasi celebri che Niccolò Machiavelli ha inserito nella sua opera c'è una che riguarda proprio il patrimonio culturale Machiavelli ci dice che chi diviene padrone di una città abituata a vivere libera e non la distrugge deve aspettare di essere distrutto da essa nella ribellione essa ha sempre per rifugio il nome della libertà e dei suoi antichi ordinamenti politici che mai si dimenticano né per la lunghezza dei tempi né per i benefici che hanno dato e per quanto si faccia si provveda se non si disperdono o si annientano gli abitanti non dimenticano quel nome né quegli ordinamenti e subito in ogni circostanza che lo permette tentano di ribellarsi questo in realtà va a descrivere il patrimonio culturale noi abbiamo degli elementi che ci sono stati trasmessi dalle generazioni precedenti e che lottiamo per trasmettere alle generazioni future e sostanzialmente sono ciò che rimane della nostra vita rimane della nostra presenza in questo mondo per questo ci ricordano la nostra identità ci ricordano il nostro senso di appartenenza ed è per questo motivo che ora cercherò di dirlo un po' più precisamente da un punto di vista giuridico però senza andare troppo nei tecnicismi è per questo motivo che la distruzione del patrimonio culturale viene sì considerata principalmente un crimine di guerra dagli strumenti pertinenti però negli ultimi anni si sono avute anche interpretazioni che vanno un po' al di là del concetto di crimine di guerra che si spingono a considerare la distruzione del patrimonio culturale anche addirittura come un crimine contro l'umanità e anche come un elemento che serve a dimostrare l'esistenza dell'intento di commettere il genocidio e questo si ricollega molto di più con l'elemento umano di cui parlava il professor Montanari con il fatto che anche io volevo usare questo termine si sta parlando di patrimonio vivente vive perché si è dotato di quella spiritualità che è importante per noi per la nostra esistenza e per trasmettere la nostra identità alle generazioni future allora se noi andiamo a vedere alcuni degli episodi storici di distruzione del patrimonio culturale io non sono uno storico ma me ne sono occupato ovviamente per cercare di capire bene le implicazioni giuridiche di questo fenomeno ecco noi possiamo notare che ci sono dei dettagli che ci fanno capire quale sia lo scopo perseguito da chi distrugge il patrimonio culturale un esempio famoso nella storia è la distruzione del tempio di Serapide a Alessandria d'Egitto nel 391 quel tempio era rimasto l'ultimo rifugio delle religioni pagane perché all'epoca ormai il cristianesimo era diventato la religione dell'impero e quindi doveva essere la religione seguita da tutti e coloro che invece professavano ancora le religioni pagane piuttosto che arrendersi scelsero di chiudersi dentro il tempio e di farsi distruggere di farsi uccidere insieme al tempio stesso e quando la distruzione era stata compiuta fu deciso di prendere tutti gli oggetti che erano stati trovati nel tempio e diffonderli e addirittura utilizzare il materiale per degli oggetti che rispetto all'importanza che precedentemente avevano quelli che erano stati fusi davano un'idea di di banalità per così dire quindi piatti forchette o cose di questo genere proprio per dire guardate noi vi eliminiamo totalmente vi eradichiamo totalmente anche la vostra memoria quello che rimane della vostra identità perché noi non volevamo distruggere il tempio volevamo distruggere voi e lo stesso lo ritroviamo se noi andiamo a una situazione molto più recente il caso di Timbuktu del 2012 no? in Mali e tra l'altro è paradossale il fatto che la distruzione dei mausolei e delle tombe a Timbuktu fu proprio innescata dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO perché durante la riunione del Comitato venne fatta una dichiarazione in cui si diceva guardate bisogna difendere questo patrimonio culturale perché in questo momento è a rischio per ciò che sta accadendo in Mali e allora fu diciamo attratta l'attenzione sul patrimonio culturale di Timbuktu tanto che questo gruppo affiliato al Qaeda Anzardine e tra l'altro da questa situazione è emersa la prima sentenza della Corte Finale Internazionale in tema di distruzione del patrimonio culturale il famoso caso Almadi che era appunto il leader di questo gruppo appunto proprio per questa attenzione che era stata creata che era stata diciamo determinata dal Comitato UNESCO del Patrimonio Mondiale è deciso di distruggere questi beni e perché andarono a distruggere i mausolei? guardate che si trattava comunque di monumenti islamici e il gruppo che portava avanti la distruzione era anche un gruppo islamico però si trattava di una visione dell'islamismo un po' diversa per cui siccome i mausolei erano dedicati a dei santi cioè uomini non erano tollerabili perché si può venerare soltanto Dio e non gli uomini anche se questi sono santi ecco qui qual è il dettaglio che ci fa capire proprio la natura di questa distruzione il fatto che una volta che i monumenti in oggetto erano stati demoliti hanno caricato i materiali su dei camion li hanno portati nel deserto e li hanno mischiati alla sabbia e questo perché per dire voi non li userete più non potrete mai più ricostruire questi questi monumenti utilizzando i materiali originari poi i monumenti sono stati ricostruiti sotto legge da dell'UNESCO però ovviamente sono stati utilizzati dei materiali nuovi pensiamo anche faccio un ultimo esempio ma ce ne sarebbero tantissimi chi non ricorda la distruzione dei Buddha nella valle di Bamiyan in Afghanistan no? nel 2001 ad esempio però ne farei un altro che mi sembra ancora più appropriato ed è la distruzione del vecchio ponte di Mostar no? dello Stari Mostar che tra l'altro è avvenuta il 9 novembre del 1993 le operazioni sono iniziate il giorno precedente che forse sarà un caso ma non credo era l'anniversario della caduta del muro di Berlino e il ponte di Mostar è stato distrutto perché all'epoca durante il periodo delle guerre civili di Jugoslave costituiva l'unico elemento di congiunzione tra le due comunità che vivevano in città quella cristiana e quella musulmana il ponte è stato ricostruito nel 2004 sempre grazie all'intervento dell'UNESCO e quando si è inaugurato nuovamente io direi il nuovo ponte però in questo caso non era proprio nuovo perché fortunatamente invece si sono potuti utilizzare materiali originali perché è rimasto tutto nel fiume ai piedi del monte in quel caso lì quando è stato inaugurato il ponte è stata la prima volta dopo parecchi anni che i sindaci delle due parti della città si sono stretti la mano quindi di nuovo vado a sottolineare quanto il professor Montanari ha adeguatamente enfatizzato l'importanza del patrimonio culturale va oltre a quello che è il significato strettamente culturale come lo intendiamo noi comunemente nell'Occidente un'altra cosa che ha detto il professor Montanari che da una parte mi ha fatto sorridere però da un'altra parte è anche triste riguarda uno dei primi aspetti che ha sottolineato cioè noi parliamo di una guerra in cui vengono commessi crimini indicibili nei confronti degli esseri umani e allora forse ci potremmo sentire anche in imbarazzo a parlare del patrimonio di cose e guardate questa cosa mi è successa una volta che avevo inviato un articolo ad una rivista sulla distruzione del patrimonio culturale e come forse sapete le riviste fanno la field review cioè mandano l'articolo a degli esperti indipendenti i quali devono valutare se esso meriti di essere pubblicato e se sono necessarie delle modifiche e via discorrendo e uno degli esperti che mi viene da dire forse tanto esperto non era ha mandato questo tipo di obiezione ma perché vi interessate tanto del patrimonio culturale quando negli stessi contesti che vengono descritti nell'articolo le persone vengono uccise in modo sistematico ci sono gli stupri ci sono tutte situazioni che vanno a colpire gli esseri umani io risposto va bene allora ditemi che non vi interessa l'articolo e lo ritiro immediatamente e ovviamente non è stato così però la risposta è semplice è proprio quel discorso che diceva prima il professor Montanari perché si parla di un'entità vivente e oggi l'UNESCO usa molto questa espressione living heritage e questo fa sì proprio che in ambito giuridico vi siano degli sviluppi importanti che vanno al di là della caratterizzazione della distruzione del patrimonio culturale come crimine di guerra che troviamo nelle regole dell'AIA che troviamo nei protocolli alle convenzioni di Ginevra di diritto umanitario che troviamo negli statuti del Tribunale per la Exigoslavia e della Corte Penale Internazionale e che quindi ormai è consolidato a livello giuridico però ecco ci sono state delle interpretazioni evolutive secondo me molto positive che vanno al di là di questo concetto il Tribunale per la Exigoslavia in particolare ha stabilito che quando la distruzione del patrimonio culturale avviene con un intento discriminatorio si rientra nel crimine di persecuzione che è un crimine contro le persone non contro il patrimonio ed è un crimine contro l'umanità si va un gradino sopra rispetto al crimine di guerra perché intanto per i crimini contro l'umanità non occorre che vi sia un conflitto armato ma può avere luogo anche in contesti di situazioni di pace questo era particolarmente vero per quanto riguarda riguardava la distruzione dei beni religiosi in Exigoslavia soprattutto in Bosnia perché c'erano degli studi qui ce l'ho che rilevavano che tra il 1992 e il 1995 di tutte le moschee che erano localizzate nell'area della guerra in Bosnia il 92% furono distrutte o gravemente danneggiate e non vado avanti ora con numeri di questo genere è difficile pensare che si tratti di un effetto collaterale dei bombardamenti e lo stesso sembra accadere in Ucraina ancora non abbiamo le prove però degli indizi ci sono non mi soffermo sia per motivi di tempo sia perché ha già spiegato in modo eccellente il professor Montanari ci sono degli indizi che porterebbero poi a dimostrare il grado ulteriore di gravità di questi atti da parte dell'esercito russo se noi andiamo a vedere gli esempi oltre anche a quelli che vi ho citato io purtroppo si capisce come questa attitudine a distruggere il patrimonio culturale sia propria dell'umanità complessivamente intesa noi abbiamo le stesse comunità umane che in un determinato periodo storico sono vittime e qualche anno dopo anche in tempo molto vicino sono coloro che commettono il crimine proprio perché purtroppo un indole che è propria dell'essere umano e che noi dobbiamo combattere la Costituzione dell'UNESCO nella primissima frase che è strafamosa quindi anche ora vado a citare qualcosa che tutti voi conoscete dice che siccome la guerra nasce nella mente degli uomini purtroppo all'epoca non c'era l'attenzione al gender balance per cui si utilizzava il termine uomini per intendere tutti gli esseri umani è nella mente degli uomini che sono più maschi a fare la guerra sì sì è vero però però se si pensa anche alle torture in Iraq a volte purtroppo le donne che secondo me sono per natura più sensibili non lo dico per piageria è più brave anche però purtroppo a volte hanno l'indole di sentare di imitare gli uomini perché sembra un modo per acquisire potere ecco è nella mente degli uomini che bisogna intervenire e concludo su questo punto credo di essere arrivato all'incirca 20 minuti è importante anche la connessione con i diritti umani parlando con il relatore speciale per i diritti culturali delle Nazioni Unite che è una mia ottima amica poi troverete diciamo dichiarazioni analoghe anche su internet probabilmente condividevamo l'idea in base alla quale se si distrugge il patrimonio culturale ci sarà uno strascico alla fine di questa guerra che sarà più lungo di quello che deriverebbe dalle azioni di guerra propriamente tipiche di un conflitto armato purtroppo in realtà anche la distruzione dei beni culturali sta diventando tipica perché nel bene culturale distrutto le persone vedono nel passare degli anni vedono l'offesa che hanno ricevuto e per questo e concludo veramente la Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto che la distruzione intenzionale dei beni culturali sia una prova dell'esistenza dell'intento di commettere il genocidio voi sapete il genocidio è il crimine più grave che si possa commettere nei confronti dell'umanità però è difficile da dimostrare perché bisogna proprio stabilire che c'è l'intento specifico di commettere il genocidio per cui spesso un genocidio può avvenire anche come effetto collaterale di atti compiuti per motivi diversi pensiamo al lancio di un'arma nucleare magari si annientano intere comunità umane però all'intento è quello di vincere la guerra per cui non c'è genocidio giuridicamente ed è difficile da dimostrare quando c'è la distruzione dei beni culturali abbiamo un elemento molto importante per arrivare alla definizione di un determinato atto come genocidio quindi questo ci fa capire quanto sia importante l'elemento del patrimonio culturale e quanto vada oltre alla concezione tipica che noi abbiamo nell'occidente del patrimonio culturale mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione la ringrazio ancora una volta professore per il suo intervento e anche qui è molto opportuno sottolineare l'annullamento dell'identità tramite appunto la distruzione del patrimonio culturale perché torniamo sempre allo stesso punto ora invece spostiamo il nostro focus sulla parte più diciamo dedicata all'ambiente e in questo caso passerei la parola al professore Giuseppe Manganelli docente di zoologia all'università di Siena nonché presidente dell'accademia dei fisocritici il professore Manganelli incentrerà il suo intervento sul patrimonio naturalistico in maniera più particolare quello faunistico dell'Ucraina a lei professore grazie Cristel e grazie agli organizzatori di questo momento di riflessione su questo terribile conflitto che ci è precipitato addosso dopo il covid io condivido tutto quello che hanno detto i precedenti relatori è veramente difficile parlare di patrimoni naturali patrimoni culturali quindi di cose anche di patrimoni naturali quando le persone vengono uccise vengono stuprate vengono costrette a fuggire dai loro ambiente in cui vivono noi stiamo vivendo un momento molto particolare della storia della vita della terra noi ormai siamo entrati in una spirale che da tantissimi anni sta distruggendo la biodiversità questa entità della distruzione della biodiversità è così significativa che è stato coniato il termine sesta estinzione per dire che noi stiamo vivendo un momento così particolare della storia della vita della terra che è equivalente a quello delle altre grandi estinzioni di massa che hanno caratterizzato gli ultimi 500 milioni di anni noi stiamo perdendo biodiversità e la perdiamo per una serie di motivi la perdiamo per la distruzione degli habitat naturali la perdiamo per l'inquinamento la perdiamo per lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali lo perdiamo per i cambiamenti climatici e lo perdiamo per un'altra cosa che è l'introduzione delle specie aliene è significativo perdere biodiversità è preoccupante sì è preoccupante perché la biodiversità è ciò che ci permette a noi ciò che permette all'umanità di esistere la biodiversità ci fornisce quelli che si chiamano servizi ecosistemici che sono tutta una cosa di processi come la produzione del cibo la produzione del suolo ci garantisce l'aria pulita ci garantisce l'acqua pulita e che sono essenziali per la nostra stessa sopravvivenza quindi tutto ci voleva in questo momento tranne che una guerra nel cuore dell'Europa una guerra che ci costringe a vedere e a parlare di altre cose quando si era iniziato tutto un discorso molto importante su cambiamenti climatici allora detto questo come dire per quanto riguarda i beni naturalistici siamo un po' più indietro rispetto ai beni culturali la percezione del bene naturalistico è ancora molto modesta e probabilmente anche il suo inquadramento in senso internazionale ad esempio si sta cercando di andare verso la definizione di un reato equivalente a quello quasi di genocidio che è l'ecoscidio ma credo che ancora siamo un po' indietro in questo ci riguarda questa guerra nell'Ucraina? sì ci riguarda ci riguarda perché perdere una parte del patrimonio naturalistico dell'Ucraina è importante sia per gli ucraini ma sia anche per noi proprio per il fatto che la biodiversità è l'insieme di tutti questi elementi naturalistici fatti da habitat fatti da specie fatta da diversità genetica all'interno delle specie io è un po' difficile parlare dell'impatto del conflitto sulla biodiversità perché le notizie sono veramente veramente poche io quello che posso dirvi ecco che l'Ucraina è il secondo paese europeo per superficie è un paese che si colloca un po' in una situazione di passaggio tra quella che è l'Europa e l'Asia con caratteristiche sia del paesaggio sia degli ambienti che guardano tanto verso quello che è l'interno dell'Asia è un territorio prevalentemente collinare ci sono due importanti sistemi montuosi che è quello dei Carpazzi e quello del Crimea è attraversato da alcuni fiumi molto importanti come il Nistro e il Nifro e sfuscia sul Mar Nero con la penisola di Crimea che da una parte c'è il Mar Nero e dall'altra parte c'è il mare di Azov e questo è il Nifro che è il fiume più importante che taglia l'Ucraina e questi sono gli ambienti che noi troviamo gli ambienti che noi troviamo che vanno da foreste miste di latifoglie e di conifere a foreste che sono intermedie con la zona della steppa a steppe vere e proprie e poi a questi due sistemi montuosi quali sono le cifre della diversità della biodiversità in Ucraina l'Ucraina ospita 6.600 specie di funghi 16.000 specie di piante e 45.000 specie di animali qui c'è una panoramica sulla fauna ma la lasciamo perdere io ora mi concentrerò prevalentemente sugli aspetti faunistici in una fauna in una biodiversità ci sono specie che sono comuni specie che sono abbondanti specie che sono chiave e specie che sono rare quali sono le specie più significative di una fauna sono quelle che vanno sotto il nome di specie minacciate specie di interesse biografico le specie minacciate sono quelle che sono a rischio di scomparire nell'immediato futuro e le specie di interesse biografico sono quelle che sono esclusive di un dato contesto territoriale questa biodiversità dell'Ucraina è protetta è come dire a tutela legale in un insieme di parchi nazionali di riserve di biosfera in altre tipologie e la maggior parte di queste riserve sono collocate sulla costa sulla costa che come sapete è uno dei siti più importanti del teatro di guerra ci sono anche 30 siti protetti dalla convenzione di Ramsar e 102 IVA che cosa sono le IVA le IVA sono aree importanti per gli uccelli e la biodiversità cioè sono siti strategici importantissimi per la tutela globale di questa biodiversità perché la tutela deve essere globale e quindi anche se stiamo parlando di Ucraina stiamo parlando di qualcosa che ci riguarda perché perdere questi siti compromettere lo stato di questi siti è qualcosa che andrà poi a incidere su un bene che è anche nostro ce ne sono 102 in Ucraina e come vedete queste IVA sono concentrate nel settore settentrionale del paese e sulla costa sulla costa ci sono gli ambienti più importanti che sono rappresentati dalle lagune costiere dalle fosci fluviali dalle cordoni dunali e che per l'appunto come dicevo prima sono i siti più coinvolti nelle operazioni di guerra faccio una breve carrellata su alcuni elementi faunistici particolarmente importanti ci sono 250 specie di pesci di acqua dolce e alcune di queste specie sono a serio rischio di estinzione e tra le specie più importanti a serio rischio di estinzione ci sono gli storioni cosa sono gli storioni gli storioni sono i pesci più grandi che vivono nelle acque dolci lo storione forse lo conoscete perché dallo storione si ricava una prelibatezza che è il caviale bene gli storioni che sono rappresentati da circa 27 specie sono un gruppo interamente in via di estinzione che rischia veramente di scomparire pensate l'ironia c'è una specie che si chiama storione comune perché una volta era diffuso su tutta Europa oggi di questo storione tra virgolette comune è rimasta una sola popolazione vitale importante in un fiume della Francia e tra l'altro è un gruppo anche molto significativo da un punto di vista della filogenesi dei pesci ossi e che perderlo sarebbe veramente una cosa drammatica non c'è una grande ricchezza dell'erpetofauna ci sono poche specie di anfibi e poche specie di rettili e solo nell'erpetofauna c'è solo una specie che è endemica cosa vuol dire che è endemica che è esclusiva di quel contesto territoriale numeri più interessanti ce l'hanno gli uccelli e i mammiferi ci sono circa 160 specie di uccelli di interesse conservazionistico in Europa e 8 di queste sono specie seriamente minacciate e tante altre in diminuzione dicevo prima che sono state individuate strategicamente 102 IVAS in Ucraina e 49 di queste supportano importanti numeri di specie minacciate ecco tra gli uccelli più importanti dell'Ucraina ci potrei mettere questo qui che si chiama otarda che è uno degli uccelli più pesanti in grado di volare ed è una specie tipica delle steppe le steppe rappresentano una porzione importante degli habitat naturali dell'Ucraina e si trovano per l'appunto nel settore meridionale e orientale proprio dove si stanno svolgendo importanti operazioni pelliche mi piace ricordare l'otarda perché quando questo uccello era più comune era più abbondante qualche volta durante le sue migrazioni arrivava anche da noi tant'è vero che noi qui in museo ne abbiamo uno che è stato preso nel 1840 a Radi alluciniano qui in Val d'Arbia la mammifera dell'Ucraina include circa un centinaio di specie a secondo delle liste 11 di queste sono minacciate due specie sono completamente esclusive dell'Ucraina che sono gli spalaci di Ucraina e lo spalace podolico e poi ci sono tre specie che sono state rintrodotte il cavallo selvatico l'asino selvatico e il bisonte europeo vi faccio una breve carrellata tra le specie più minacciate c'è il visione europeo lo spalace l'Ungheria cosa sono questi spalaci si chiamano dei ratti talpa perché sono deroditori che vivono al modo delle talpe sotto terra scavando dei cunicoli e nutriendosi di radici animali di questo tipo sono abbastanza tipici delle steppe degli ambienti aperti come le steppe le praterie e ce ne sono più o meno simili analoghi in altre parti del mondo sono animali anche importanti perché causano quella che è la bioturbazione del suolo cioè lo rimestrano lo areano portano dentro dei triti e quindi sono anche importanti da un punto di vista ecologico ecco due di queste specie sono esclusive dell'Ucraina e tutte e due si trovano nei bassopiani costieri di fronte proprio all'attacco della penisola della Crimea questo è un animale stranissimo che si chiama desman è una sorta di parente della talpa ma è un animale acquatico e poi faccio vedere fine quest'ultima che è la puzzola marmorizzata anche questo un altro animale tipico delle steppe e poi un animale che è stato reintrodotto che è il cavallo selvatico di popolazioni di cavallo selvatico ne è rimasta solo qualcuna in Mongolia il famoso cavallo di Prevaschi reintrodotto nell'area di Chernobyl che tra l'altro è stata dichiarata poi riserva della biosfera quest'animale si è trovato abbastanza bene e si è riprodotto fino a raggiungere il numero di 150 esemplari sembra che quest'area che costituisce ha costituito uno dei disastri ecologici più importanti dell'ultima parte del secolo scorso essendo disabitata ospiti una biodiversità piuttosto rilevanti con specie rare con specie insomma abbondanti come però stiano questi animali ci sono dei dati molto molto incerti ci sono dei dati che riportano neoplasie aberrazioni che riportano malformazioni che riportano riduzione della fertilità e così via però insomma i numeri sono interessanti ed è una cosa che sarà da studiare e tra l'altro come hanno sottolineato anche gli altri è molto difficile sapere quello che sta succedendo se è per i monumenti se è per il patrimonio culturale lo è veramente di più per quello che è il patrimonio naturale una specie che invece l'Ucraina ha perso ma non ora l'ha persa in tempi storici è una stranissima antilepe che si chiama Saiga la Saiga era una di quegli ungulati che popolava queste praterie temperate del vecchio mondo dell'Eurasia questa specie era molto comune una volta si è estinta in Ucraina nel XVIII secolo e oggi ne esistono circa 40.000 esemplari rispetto al 1.250.000 degli anni 70 del XX secolo perché questo numero è così calato è calato perché quando si è dissolta l'Unione Sovietica è seguito un periodo in cui l'autorità degli stati l'autorità preposte al controllo del bracconaggio e così via sono venute meno per cui i bracconieri e i cacciatori hanno potuto portare quest'animale praticamente all'estinzione questo a dire che quando ci sono situazioni in cui la vita normale viene meno in cui quei controlli che gli enti preposti a fare a farli insomma si dissolvono è tutto è possibile soprattutto animali di un certo interesse possono essere portati all'estinzione ecco vi faccio vedere questa la saiga uno stranissimo ungulato della grandezza più o meno di una pecora con questa strano proboscide sul naso ma è una cosa estremamente funzionale perché vivendo nelle steppe il suolo delle steppe è molto sabbioso molto polveroso quando questi branchi si muovono alzano polvere hanno bisogno di questo filtraggio di questo dispositivo di filtraggio perché così da ripulire l'aria che ispirano e dicevo quindi in partenza che noi stiamo vivendo questo momento drammatico in cui i processi estintivi cioè la scomparsa di specie ha raggiunto livelli tali da far sì che questi ultimi secoli questi ultimi 20 mila circa 10 mila anni siano equiparati a quelle grandi estinzioni di massa che hanno caratterizzato la vita del fanerozoico come entità di perdita e tenete conto che dagli anni 70 ad esempio è stata persa quasi il 50% delle popolazioni di praticamente tutti i vertebrati e questo processo è inarrestabile non si sta arrestando e per arrestarlo ci vorrebbero condizioni ben diverse da quelli che stiamo vivendo oggi perché una guerra con tutte le sue conseguenze renderà ancora più difficile cercare una gestione di questi processi noi stiamo perdendo biodiversità come dicevo all'inizio per la perdita di habitat per la presenza di specie invasive le specie invasive sono quelle specie che l'uomo trasloca volontariamente o involontariamente da un'area geografica ad un'altra stiamo perdendo questa diversità perché utilizziamo le risorse naturali a un livello che non è sostenibile perché abbiamo innescato un cambiamento climatico che è drammatico per tutto l'inquinamento e perché noi dobbiamo contrastare la persa di biodiversità la dobbiamo contrastare perché senza la biodiversità noi non potremo continuare la nostra esistenza perché la biodiversità svolge un ruolo fondamentale per l'esistenza stessa dell'umanità fornendo questi che si chiamano servizi ecosistemici cioè la biodiversità svolge un ruolo essenziale nel fornire questi beni di prima necessità che sono il cibo l'aria pulita l'acqua pulita ed è indispensabile anche per l'economia perché sembra che metà del pil globale dipenda dall'ambiente e dalle sue risorse ecco io con questo più o meno concludo cioè era per me molto difficile parlare della situazione sul campo in Ucraina per questa mancanza di notizie certe di questa mancanza di notizie disponibili perché se sono poco disponibili per i beni culturali ma sono poco disponibili anche per la situazione in campo sono veramente praticamente assenti per quello che è la distruzione del patrimonio naturale grazie 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 ancora professore per il suo intervento mi verrebbe solo da dire che questa situazione quindi è la diciamo il conflitto in Ucraina sta ancora di più peggiorando la situazione critica quindi è precaria in cui si trova il nostro pianeta ed è bene ricordare che non esiste un pianeta B a questo punto passerei la parola al dottore Matteo Guidotti membro del CNR di Milano e membro anche dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche che ha sede all'AIA il dottor Guidotti in questo caso incentrerà il suo intervento sull'utilizzo delle armi in conflitto e in particolar modo in Ucraina grazie professore grazie a voi grazie a voi ma visto che ho anche il mio presidente di fianco devo dire orgogliosamente anche membro di questa splendida accademia questo devo dirlo anche per affiliazione principale effettivamente come è stato detto in tutte le relazioni precedenti è sempre difficile anche dal punto di vista etico e morale parlare di danni che apparentemente ma ribadisco e come è stato detto da tutti solo apparentemente sono meno importanti rispetto al tragico danno che ogni giorno di guerra apporta sulla popolazione sull'umanità anche in termini di sconvolgimento sociale pensiamo solamente a rifugiati pensiamo alle migrazioni che non solo ora ma anche a guerra terminata dovessero eventualmente continuare ma c'è anche una specie di pedaggio diciamo di peso che è quello a più lungo termine sicuramente già il nostro presidente ha parlato dell'impatto sugli ecosistemi e soprattutto sulla fauna sulla flora ma l'impatto sull'ambiente inteso anche come danno ambientale contaminazione inquinamento è un qualcosa che spesso le aree di guerra si portano dietro per decenni interi se non addirittura centinaia d'anni sicuramente è difficile andare a vedere cosa stia esattamente succedendo perché come anche tutti gli altri colleghi hanno detto effettivamente è difficile avere delle informazioni che siano prima di tutto neutre dal punto di vista della propaganda perché quello che andiamo a sentire è sicuramente pende da una parte o dall'altra per motivi anche di propaganda che sempre in tutte le guerre veramente dai tempi veramente anzi pre-romani ad oggi ha sempre caratterizzato l'informazione in guerra ma soprattutto perché nell'ambito io sono chimico e nell'ambito della valutazione della contaminazione dell'inquinamento le indagini in situ le indagini in loco sono assolutamente lo strumento migliore e più oggettivo per avere l'informazione di quello che sta succedendo e sfido chiunque a dire che tra i mezzi ai bombardamenti io vado a fare dei campionamenti di acqua di suolo o di quant'altro quindi adesso in questi pochi minuti cercherò di trattare tratteggiare quello che in realtà abbiamo visto in altri conflitti dalla prima guerra mondiale ad oggi però lasciatemi fare una una sottolineatura particolare del perché l'Ucraina sia tanta diversa dagli altri teatri di guerra soprattutto quelli attivi e di cui il professor Montanari ci ha detto appunto attivi più di 100 in varie parti del mondo motivo che spesso nelle discussioni lasciatemelo dire un po' da bar sport si tende a dire beh ma perché ti interessi tanto dell'Ucraina e non delle varie parti del mondo di questa parte in Asia in Africa o quant'altro beh perché lasciatemelo dire non dal punto di vista cinico ed esclusivamente economico lungi da me sono chimico ma dobbiamo tenere presente alcuni dati obiettivi sicuramente l'Ucraina è stata ed è comunque sempre una nazione altamente industrializzata questo la rende qui avete i numeri non sto a leggerli ma soprattutto la rende molto diversa pensiamo a un teatro che ci ha toccato profondamente per una partecipazione anche delle nostre forze armate che è l'Afghanistan beh lì l'industria è praticamente assente e quindi danni collaterali anche dal punto di vista ambientale possono essere veramente minoritari tratteggiamo invece l'Ucraina del pre-inizio del conflitto diciamo e direi anche pre-covid del 2019 settimo produttore di ferro quindi grandissima industria siderurgica non solamente dal punto di vista nazionale ma per tutta l'Europa dell'est e dell'ovest ottavo produttore di manganese sesto di titanio settimo di grafite e nono di uranio potresti dire bello belle cifre adesso vuoi elencare tutta la tavola periodica no non necessariamente però dimostra quanto pervasiva sia la produzione la manifattura di queste che possono andare spesso dal dal materiale di base può essere veramente l'acciaio o la grafite per usi di minor vi l'ho raggiunto più umili si può dire ma di importantissima di importantissimo impatto dal punto di vista ponderale della massa economica che ci sta dietro fino a prodotti di altissimo valore aggiunto pensiamo ai radiofarmaci tutta la tradizione si può dire la tradizione scientifica nucleare della medicina della chimica nucleare dell'Ucraina così come di altri paesi ex-sovietici fa sì che una buona fetta tra Kazakistan e Ucraina per l'appunto soprattutto nel 2019 dei radiofarmaci prodotti e utilizzati anche per finalità mediche anche nei nostri paesi potesse provenire da lì oppure anche per finalità scientifiche quindi e poi una nota che sembra una nota secondaria ma assolutamente non lo è il 50% del neon mondiale attenzione quando del neon parlo dei gas non il tubo fluorescente che intendiamo di accendere il neon di cui però in alcune parti all'interno appunto c'è ci può essere ancora del gas neon neon mondiale del krypton proviene dall'Ucraina perché e a cosa servono questi due gas gas nobili come alcuni di voi ricorderanno ma principalmente perché è un sottoprodotto della manifattura siderurgica della distillazione dell'aria e rimane l'industria siderurgica utilizza grandissime quantità di ossigeno e di azoto e quando si va a distillare l'aria un po' di neon e di krypton rimane che viene distillato purificato e dove si può trovare per esempio il neon è uno degli ingredienti principali per la produzione dei laser e quindi anche in questo in questo laser sicuramente e questi sono alcuni ad stato solido ma per dire quanto possa essere anche lì diffusa nelle nostre vite l'uso del laser ecco lo possiamo trovare grazie ad ingredienti che arrivavano perché adesso il flusso è stato interrotto dall'Ucraina e poi ultimo ma non ultimo come importanza quelle che nelle produzioni primarie quelle che alla scuola alimentare imparavamo sempre tra le batterie prime dell'industria il carbone l'acciaio e questo e quest'altro ecco il carbone per l'appunto ma non solo per il scaldamento anche per la manifattura di tanti altri prodotti primari ed intermedi chimici come l'acetilene tutta la chimica dell'acetilene e dei composti carboniosi l'acido solforico che fino a una cinquantina di anni fa era si può dire veramente la misura il termometro della potenza industriale di un paese e poi fertilizzanti fertilizzanti spesso usati in situ perché l'Ucraina sappiamo tutti ormai che tutto il grano che sembrava prevedire dall'Italia e dall'Europa alla fine poi arriva quasi sempre dall'Ucraina ovviamente produrre lì grano cereali implica anche produrre fertilizzanti e poi il discorso dell'energia dell'energia nucleare 70 teravattora generati con impianti termonucleari nel 2020 quindi subito prima dell'inizio della guerra ma anche durante quindi un terzo paese come importanza dopo in Europa dopo Francia e Slovacchia tanto per intenderci 4 impianti 15 reattori ancora attivi e l'impianto che è più grande in Europa è quello di Zaporizia che ormai siamo abbiamo imparato a conoscere prima conosciamo solo Cernobil ricordiamo che anche i 3 dei 4 reattori reattore 4 di Cernobil era appunto stato la sede dell'incidente dell'86 l'ultimo reattore reattore 2 è stato spento a Cernobil nel spento comunque si può dire rallentato fortissimamente nella produzione intorno al 2000 solamente 2000-2001 e ancora c'è personale che lavora quindi Ucraina una grande potenza anche dal punto di vista dell'energia ottenuta per dal punto di vista termonucleare quindi ecco questo dà un po' l'idea di quanto possiamo essere dipendenti anche per tutta la catena che possa andare veramente dalla fertilizzante per l'agricoltura fino alla strumentazione di altissimo livello da quello che può essere prodotto o che era prodotto in alcuni casi in Ucraina ma come si diceva e come anche molti dei colleghi hanno detto poi prima di me è difficile avere una situazione una fotografia esatta di quello che sta succedendo e per darvi un'idea di quanto possa essere lunga l'onda nociva dell'impatto della guerra sull'ambiente in tutte le sue dinamiche dal punto di vista tossicologico e ambientale vi mostro a un po' veramente a sorta di medaglioni partendo dalla prima guerra mondiale quanto questo impatto possa essere rilevante prima guerra mondiale andiamo sul fronte francese quindi il fronte tra l'attuale Belgio e Francia sapete che lì proprio anche molto di più di quanto possa essere successo sulle nostre alpi dei confini nord orientali i combattimenti sono stati assolutamente più aspri e più intensi anche per un discorso di zone relativamente pianeggianti quindi ideali per quella deteriorante e tragica guerra di trincea che è stata appunto la grande guerra sul fronte francese ancora vi sono cioè sul lato della Francia vedete in questa questa parte siamo subito a sud qui è Lille tanto per intenderci abbiamo tutta la parte della Champagne qui sotto c'è Parigi quindi lungo lungo quella che è l'attuale frontiera tra Belgio e Francia verso la parte francese si sono consumati i più grandi combattimenti tra il 14 e il 18 quelle zone che lì vedete in rosso sono veramente una zona rossa un po' come la zona rossa di Cernobil che noi tutti conosciamo sono zone che ancora oggi quindi ancora dopo di più di cent'anni sono in cui è vietato l'ingresso perché metalli pesanti quali piombo mercurio arsenico e tanti altri taglio e quant'altro che possono essere che sono stati utilizzati per la costruzione e per la manifattura di ordigni ordigni anche non necessariamente armi chimiche l'arsenico sì l'arseniprite è stata utilizzata fortemente in quei teatri di scontri ma piombo e mercurio sono piombo per quanto riguarda la parte gravimetrica di un proietto d'artiglieria o comunque anche di fanteria e il mercurio perché ricordiamo che il fulminato di mercurio è l'innesco di quello che poi è la carica da lancio soprattutto agli inizi del novecento questi metalli metalli pesanti metalli altamente nocivi sia dal punto di vista acuto sia dal punto di vista cronico si trovano in alcune zone in alcune zolle di terreno di queste aree e questa è una foto dove quello che sembra un campo da golf perché c'è tutte queste belle dune eleganti in realtà sono ancora i crateri dei proietti d'artiglieria caduti in modo densissimo cento anni fa ecco in alcune zone si trovano centosettantamila milligrammi di chilogrammo per parlare nel soldone vuol dire più di un etto e mezzo per ogni chilogrammo solamente di arsenico sono valori di picco chiaramente ma da dall'idea di quanto devastante sia ancora oggi quell'area e che ormai è veramente impossibile da decontaminare da bonificare la vegetazione è scarsa lo vedete qualcosa cresce ma è comunque delle specie pioniere come dicono i colleghi naturalisti falde acquifere ovviamente potete immaginare contaminate e la pastorizia altrettanto è impossibile passiamo prima seconda guerra mondiale arriviamo nello scacchiere italiano qualcuno di voi forse ricorderà ma non per motività dal punto di vista esclusamente di scuola il fenomeno l'evento tragico del bombardamento del porto di Bari durante la seconda guerra mondiale siamo al 2 dicembre del 43 Bari che era già nel settore meridionale comunque dell'Italia quindi oltre il fronte diciamo appunto dell'Italia che si stava comunque liberando che era passata dopo l'8 settembre del 43 l'aviazione germanica ha voluto distruggere la capacità di entrare e uscire dal porto di Bari quindi moltissimi avvi affondati 17 8 gravemente danneggiate hanno bloccato per mesi il porto di Bari che serviva da punto di fornimento per tutta l'Italia settentrionale per alimentare l'avanzata verso nord ma una di queste la nave John Harley portava un carico di munizione a liprite liprite un'arma chimica che non è mai stata utilizzata nella seconda guerra mondiale nessuno l'ha utilizzata in campo aperto ma era un deterrente che entrambi gli schieramenti avevano l'iprite è un quello che si è detto alla gente mostarda la mostarda allo zolfo perché ha un odore quando è impura fortemente di aglio e di cipolla marcia e la nave nera carica ci sono stati tantissimi casi ovviamente di contaminazione immediata ma continuano fino ad oggi perché in alcune zone di fondali bassi pescatori continuano a tirare fuori degli ordigni a caricamento speciale un appunto liprite che in alcuni casi hanno resistito dopo più di 80 anni e poi con la corrosione dei sali marini riescono a una volta tirati a bordo dei pescherecci rilasciano il loro contenuto benefico e quindi i danni continuano ancora oggi e ci sono progetti anche per la bonifica dei fondali marini soprattutto in prossimità della zona barese ma arriviamo arriviamo più a noi e questo sì questo lo possiamo ricordare con un po' più di facilità anche magari per esperienza diretta chi ha qualche capello bianco la guerra del Vietnam la guerra del Vietnam quindi vabbè non entriamo in tutto discorso bellico ma da chimico fatemi mettere un paio di formule è giusto poi so che qui ci sono alcuni colleghi quindi mi scuseranno della brutalità in cui le descriverò ma molti sapranno dell'uso estensivo dei defolianti in modo particolare del cosiddetto agente arancio arancio non perché queste molecole siano arancioni perché in realtà sono poi di grani bianchi ma arancione era il marchio che metteva messo sui barilli dell'esercito statunitense e questo composto qui sopra è appunto un potente defoliante tutta la famiglia di comunque questi cloroderivati del fenol ci sono potenti defolianti antivegetativi però ecco si può essere anche non un chimico per vedere che la molecola che sta sotto quella con i tre esagoni per intenderci sembra nata così in un gioco ad incastro di domino da due di quelle parti successive ecco quella di sotto è la famosa tetracloro di benzo di ossina quella che la nota di ossina quella di seveso per intenderci una dei composti più tossici comunque tra gli inquinanti noti e che spesso per errori nella sintesi della molecola superiore quella del defoliante viene fuori in piccole quantità sì ma quando le piccole quantità vogliono dire le decine di migliaia di tonnellate sparse dall'esercito statunitense sul Vietnam in quelle aree che lì nella mappa in questa mappa qui sono indicate in rosso praticamente in quasi tutto il paese ecco ovviamente anche avere l'1% o lo 0,5% di contaminazione vuol dire avere decine e decine di tonnellate di di ossina che sono state sparse ancora si trovano ancora contaminano ancora danno danni a livello di proprietà mutagene teratogene anche nei nuovi nati di contaminazione delle risaie e quant'altro e ricordo con alcuni progetti europei di collaborazione con cui ho avuto modo e onore di partecipare colleghi analisti chimici di Hanoi e di Saigon che hanno effettivamente dimostrato e hanno mostrato dei dati di alcuni risi provenienti dalle risaie soprattutto del sud che ancora nel 2015 16 quando ero andato io erano a dir poco impressionanti e poi arriviamo più vicino a noi anche geograficamente il munizionamento dell'urano impoverito stiamo parlando della guerra nei Balcani anzi nelle guerre dei Balcani in ultimi anche la guerra tra Serbia la Repubblica di Serbia e coalizione NATO del 98 99 ebbene molti abbiamo sentito del discorso di munizionamento all'urano impoverito che cos'è detto in tre parole per non tediarvi via più l'uranio impoverito è uno tra l'uranio in generale uno dei metalli più densi molto più denso del piombo e per questo motivo anche per un motivo prettamente balistico viene utilizzato come elemento penetratore quel dardo che è in proietti d'artiglieria per penetrare armamenti e blindature o anche bunker in caccia e struzzo perché era utilizzato prima veniva utilizzato dei sovietici il tungsteno anche il tungsteno metallo più denso del piombo ed era piroforico autoaffilante però il tungsteno costava come costa ancora ora era prodotto in Ucraina già allora ma costava invece l'uranio impoverito non solo non costa niente ma ti pagano per portarlo via perché sapete che nelle nazioni nucleari nei processi di arricchimento dell'uranio sia per finalità civili ma soprattutto per finalità finalità belliche per finalità il famoso weapon grade uranium cioè l'uranio a grado d'armamento solamente una piccola frazione dell'uranio naturale è l'uranio 235 utile per i munizionamenti per le ordini atomici tutto il resto è l'uranio 238 il cosiddetto uranio impoverito allora quale miglior modo per smaltirlo e tirarlo in testa agli iracheni o ai serbi durante queste guerre un modo per contaminare l'ambiente perché perché non tanto come materiale radiattivo l'uranio 238 è un pessimo diciamo dal punto di vista non pessimo ma comunque ha un'attività veramente un tempo di mia vita lunghissimo ma soprattutto le altissime temperature in punta quel penetratore quel dardo che entra all'interno di una torretta di una di un di un carro armato può raggiungere fino ai 3.000 4.000 gradi celsius di temperatura proprio in punta a quel punto il metallo si vaporizza e si creano degli aerosol nanodispersi di ossidi di uranio quelli di cui ho portato qui queste micrografie sono quelli inanabili e sono quelli che poi possono dare danno e che in parte hanno anche dato danno neoplasie maligne alle persone combattenti che hanno combattuto lì e anche in parte a chi poi ma soprattutto nel periodo subito dopo questo impatto e che ha dato origine poi a molte sindrome sindrome del Balcani sindrome del Golfo e quant'altro quindi insomma per terminare la guerra non è mai una cosa bella anzi non è assolutamente mai una cosa bella è da rifuggire in tutti i modi ma anche solo il mantenimento di un apparato bellico ha un impatto notevole uno ha dato su tutti il ministero della difesa statunitense quindi le le quattro forze armate statunitensi sono il più grande consumatore di petrolio e derivati e uno dei maggiori produttori di gas clima alteranti istituzionali quindi fatti salvo magari alcuni privati e danno un'idea praticamente se vediamo il numero di automobili in grigio negli Stati Uniti ecco l'equivalenza di inquinamento solo dell'apparato delle forze armate statunitensi sono più del doppio praticamente di quelle macchinine rosse sottoesposte quindi insomma quali sono gli elementi di preoccupazione dell'Ucraina beh sicuramente bombardamenti e depositi vogliono dire tanto particolato fine il famoso PM10 PM5 quella specie anche di nerofumo che si vedono nei bombardamenti soprattutto a depositi di carburante colpiti intenzionalmente o casualmente gli impianti industriali colpiti bene abbiamo avuti già diverse evidenze un impianto nel nord-est dell'Ucraina verso Severo Degnesc di ammoniaca l'industria che faceva che produceva fertilizzanti acido solforico quindi con emissioni di grandissime quantità un'interruzione dei sistemi di pompaggio delle miniere e il Donbass è un grande produttore di tutti quei minerali che avevano estratto all'inizio vuol dire che le miniere si stanno riempiendo di acqua e stanno lisciviando stanno dilavando metalli anche molto tossici che ovviamente andranno a finire nelle falde acquifere qualcuno si berrà munizionamento piombo arsenico e tutto questo anche gli ordigni al fosforo bianco illuminanti sono stati utilizzati e sicuramente rimarranno nell'ambiente come sono rimasti nell'Ardenne o nel nord della Francia e poi ultimo e con questo veramente chiudo perché ho sforato un po' e mi scuso con gli organizzatori gli edifici con l'asbesto con l'amianto micropolveri di asbesto sollevate perché teniamo presente che l'Ucraina fino al 2015 produceva più della metà del 65% dell'asbesto di tutto il mondo e ne è stato eliminato l'uso solamente due anni fa diciamo per l'uso civile ma quindi potete immaginare che tra eterni equivalente dell'eterni il nostro quindi asbesto cemento e quant'altro è ancora tantissimo tantissimo usato e per terminare per ora non sappiamo e non ci sono evidenze grazie al cielo direi di depositi di combustibile nucleare esausto colpiti ma questo è un rischio che è sempre anche per finalità non intenzionali è sempre dietro l'angolo e con questo il vero impatto ambientale può come sarà detto anche sull'impatto culturale demografico e nell'ecosistema potrà essere valutato poi solamente nei prossimi anni stiamo vedendo e capendo ora cosa è successo in Vietnam dal 68 al 72 probabilmente ci vorranno altrettanti anni per capire quello che sta succedendo oggi in Ucraina grazie mille dell'attenzione grazie grazie per il suo intervento ci chiedevamo con i miei colleghi appunto quanto tempo ci vorrà per ripristinare la situazione se si potrà ripristinare la situazione proprio a livello ambientale quindi grazie una domanda o un commento ci sarà è previsto no no se c'è una risposta se avessi la risposta davvero potrei fare l'astrologo essere pagato molto di più no seriamente torniamo nel registro serio e anzi tragico direi ahimè lo stiamo vedendo stiamo vedendo come ancora da anni appunto della prima guerra mondiale e ancora oggi adesso anche nel territorio italiano ci sono ordigni a caricamento speciale che si trovano nel nel teatro bellico appunto della zona dolomitica alpina del friuli venezia giulia quindi sicuramente la cosa è estremamente lunga apparati di boni la bonifica classica ha dei costi richiede competenze in italia appunto o possono essere state alcune zone per la parte radiologica e radioattiva del di di cernobil solo alcune zone di accesso solo strade di accesso sono state bonificate rimuovendo spesso dai 40 ai 60 centimetri di terreno per interi chilometri proprio tirando via proprio lo strato e in alcuni casi poi comunque quella anche quella terra quel suolo rimosso è un rifiuto assolutamente speciale da trattare in modo in modo con estrema attenzione nel caso del materiale radiattivo oltretutto non è nemmeno processabile perché almeno l'arsenico il piombo in qualche modo si può estrarre concentrare e non dico riutilizzare ma sicuramente mitigarne gli effetti quindi quando quando farlo sicuramente sono lunghi tempi di analisi e di capire cosa è successo e cosa sta succedendo i francesi stanno cercando di capire ora cosa è successo sul loro suolo cento anni fa e i costi talvolta sono talmente preobitivi che anche un paese avanzato come la Francia per tornare a quell'esempio sta dicendo lo rendiamo quelle zone zone di interdette zone rosse completamente di esclusione e lasciamo lì ai posteri non tanto l'ardua sentenza ma l'arduo fardello quindi probabilmente avremo altre zone rosse anche in Ucraina purtroppo purtroppo dipende molte volte anche dalla dalla concentrazione di questi contaminanti alcuni facilmente possono anche out lentamente ci sono molte modi di anche con vegetazione particolare che ne so la rundodonax la canna comune la canna palustre comune che conosciamo tutti è un ottimo veramente recettore e concentratore per esempio di metalli pesanti si utilizza in molti siti contaminati industriali e anche italiani viene piantata quella cresce anche senza annaffiarla grazie al cielo e a quel punto raccogliendo queste canne processandole si riescono almeno a concentrare il danno grazie mille io ringrazierei ancora una volta tutti i relatori per aver partecipato alla nostra iniziativa e inviterei qui il pubblico se c'è qualche domanda se volete fare qualche domanda sono qui siamo tutti qui anche da casa se c'è qualcuno che da casa ha qualche curiosità o anche qualche spunto di riflessione utile siamo ok allora io arrivo la ripeto alla fine giustamente non ho risposto alla domanda di quanto tempo ci voglia dipende da caso in caso in realtà la ricetta perché dire bastano dieci anni bastano cento anni o mille anni dipende dal tipo di contaminante ci sono contaminanti che effettivamente classicamente anche quelli di composti organici pensiamo ad alcuni composti organici cosiddetti recalcitranti quelli di maggior preoccupazione alcuni organi colororati pensiamo appunto alle diossine e quant'altro ecco le diossine alla lunga per esempio come altri composti organici possono essere degradati alla lunga stiamo parlando dell'ordine dei decine di anni per effetto spesso anche per un effetto di lavamento meteorico spesso per un effetto e quindi una diluizione a livelli subcritici spesso anche per un effetto dell'intervento degli ultravioletti solari i composti organici possono essere veramente nell'arco degli anni almeno superficialmente anche auto si possono degradare e possono essere auto decontaminati i metalli pesanti no il piombo li rimane come abbiamo appunto la copertura in piombo del cupolone del Duomo di Siena li rimane da 800 anni ecco in tal caso li rimane spesso è importante confinarlo per evitare che vada poi in giro valde acquifere fiume acque superficiali però ecco una domanda seria non c'è una domanda scusate una risposta le domande sono sempre serie una risposta efficace non c'è perché veramente da elemento elemento da inquinante inquinante la storia può essere radicalmente diversa e i radionuclidi cernobil o fukushima o quant'altro stiamo parlando dell'ordine di grandezza spesso dei decine di migliaia di anni perché appunto è il decadimento radioattivo naturale di alcuni di alcuni di questi esotopi quindi ecco al solito prevenire sarebbe meglio che curare e a quel punto sarebbe meglio non fare la guerra proprio grazie chiederei allora ai miei colleghi di ah ok arrivo una risposta impropria diciamo alla domanda precedente in questi giorni da circa una settimana o due se siete passati sulla siera grosseto del tratto di bagnaia e così via è stato facendo lo sminamento perché quella zona fu bombardata col ponte marceleto quanti anni sono passati tanti la parte superficiale era stata sminata ma la parte profonda nessuno lo sa e qui e sullo sminamento ce ne è una quantità immensa quindi per far capire che anche qui da noi quando ci sono certe realtà che sono state bombardate era fatto normalmente lo sminamento e il controllo pur essendo passati ormai 70 anni della guerra grazie grazie a lei io pongo la domanda a tutti cosa può fare il mondo accademico e il mondo scientifico quando si presentano dei teatri dell'orrore come quelli che stiamo vivendo e cosa fa visto che la politica diciamo a volte per volontà o no non riesce ma il mondo accademico che cosa fa e che cosa può fare grazie è rivolto a tutti quindi dal rettore non mi sottrago alla domanda poi passo la palla ai colleghi allora io credo che la prima cosa da fare in questi momenti è ricordarci che le università visto che la domanda è sul mondo accademico non sono alle dipendenze dei governi c'è un'autonomia che in Italia è sancita dalla Costituzione la comunità accademica è una comunità internazionale che attraversa tutti i confini umani e anche quelli naturali se ve ne sono e la prima cosa da fare credo è non introiettare la logica della guerra alla conferenza dei rettori sono sentito proporre di dare aiuto borse di studio posti soltanto alle donne in fuga dall'Ucraina la prima volta che sento dire qualcosa solo per le donne nel maschile mondo accademico e perché perché gli uomini dovevano rimanere a massacrarsi in Ucraina l'università italiana non può mettersi a stabilire chi deve combattere chi non deve combattere in un paese in cui una delle differenze con la resistenza legittima meno si può discutere è la coscrizione obbligatoria dai 18 ai 60 anni per cui chi viene sorpreso a voler fuggire un disertore viene preso il fucilato quindi diciamo la prima cosa è non accettare questa logica io credo una seconda cosa è ribadire costantemente la funzione dell'università anche qua parlo di esperienza personale conferenza di rettori audizione di Marco Minniti che presiede la fondazione Medor che è la fondazione della Leonardo che si occupa la Leonardo che è il principale produttore di armi italiano partecipato a statale ha due fondazioni quella grande generale presieduta a Luciano Iolante l'altra da Marco Minniti nota a piedi pagina bisognerebbe riflettere diciamo sulla storia della sinistra italiana chiuso parentesi il quale è venuto a dirci che accanto all'hard power della Leonardo le armi c'è il soft power della fondazione che ha molto denaro e che proponeva alle università italiane un accordo un memorandum d'intesa che poi è stato sottoscritto dalla conferenza dei rettori con un solo voto contrario quello che è sottoscritto in cui i soldi della Leonardo sostanzialmente dovranno servire a formare una classe dirigente dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente avrebbero dovuto sottoscrivere un impegno a ritornare nei loro paesi dopo la formazione già questo è complicato l'università non può vincolare la sua formazione a delle scelte di vita io non posso far firmare a qualcuno un impegno del genere per costruire una classe dirigente diceva Minniti fedele ai valori occidentali il compito dell'accademia dell'università è ridefinire i valori è dare degli strumenti per cui poi le prossime generazioni li ridefiniscano evidenziare la differenza che c'è fra i valori delle costituzioni e i valori dei governi che sono gli stessi cioè c'è una complessità in cui anche ammettendo che vada benissimo produrre armi e venderle cosa sulla quale da cittadino qualche dubbio ma anche ammettendo questo una società complessa non può imporre a tutti i corpi sociali la stessa funzione malalmente l'università può fare questo altro esempio di oggi ci viene sollecitato a tutte le università italiane un sostegno alla candidatura di Roma per la Expo 2030 si dovrebbe aprire un lungo discorso sul fatto che chiedersi se le università debbano sostenere la candidatura all'Expo della loro capitale anche qua c'è un ritorno di nazionalismo e questo è uno dei primi veleni da combattere l'università è per sua definizione il contrario del nazionalismo perché ha a che fare con un'idea di appartenenza mondiale la nostra poi l'università per stranieri ha a che fare con l'idea di una patria mondiale di un cosmopolitismo direi naturale io ho risposto che noi non avremmo partecipato perché il nostro suggerimento che ho avanzato nelle sedie anche proprie è che l'Italia ritiri la sua candidatura e sostenga quella della città che va battuta così ci è stato detto Odessa ci pare possibile che in questo momento a me non pare possibile che l'università italiana come dire si sforzino di battere Odessa nella candidatura all'Expo del 2030 perché per le ragioni di cui parliamo oggi Odessa è una delle capitali culturali dell'Ucraina probabilmente è la capitale culturale dell'Ucraina dovremmo batterci per dire che nel 2030 Odessa deve essere viva deve esistere e deve esistere al punto tale da poter esporre l'Expo ospitare l'Expo perché se diciamo in questo sforzo di retorica di solidarietà la nostra solidarietà sono solo le armi ma per esempio su questo punto del patrimonio culturale non sappiamo dire nient'altro e anzi business as usual andiamo avanti col fare i nostri affari e diciamo sono dei competitor da battere forse diciamo può darsi che sia il compito del ministero degli esteri italiano il capo della candidatura l'ambasciatore Massolo non lo so non è la sede per discutere lo so che non è il compito dell'università perlomeno non della nostra allora io credo che l'università di fronte a questa situazione debba interrogarsi sulle proprie missioni stiamo per intitolare tra le tante aule anche una importante Virginia Woolf che nelle tre guinee dice io immagino un'università che non serva a imparare il dominio dell'uomo sull'uomo l'accumulazione del capitale ma un'università che prepari generazioni in grado di prevenire le guerre il compito dell'università è questo dopodiché ci sono mille azioni mirate anche questa se ne fanno di tutti i tipi quello che deve essere chiaro è che secondo me che l'università come dire non ha a che fare con la politica degli stati nazioni dei governi degli stati nazioni soprattutto l'università ha un'altra missione che è dettata proprio dalla sua totale autonomia e dalla servire la scienza la conoscenza l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento questa libertà questa è la nostra costituzione anche a che fare con la libertà come dire dagli interessi nazionali nei quali c'è secondo me la costruzione di strumenti critici per cui un'opinione pubblica possa costantemente diciamo crescentemente operare perché le guerre siano prevenute perché il vero problema è non cominciarle le guerre questo famoso ripudio delle guerre dell'articolo 11 di cui tanto si dibatte ha a che fare soprattutto con il ruolo preventivo che un paese come il nostro dovrebbe avere cioè fare di tutto per non arrivarci sappiamo bene quanto sia difficile quindi io credo che da tutti i punti di vista nel generale nello specifico il contributo dell'università debba essere quello che è così difficile anche in periodi di pace mantenere la propria missione di luogo di elaborazione e diffusione del pensiero critico grazie grazie se ci sono ancora altre riflessioni contributo da operaio delle molecole assolutamente mi associo a quanto ha detto ovviamente il rettore Montanari ma ecco guardandolo dal punto di vista meramente tecnico università ma anche enti di ricerca perché io poi da cenerrino sono orgogliosamente anche all'interno di un ente di ricerca la chimica biologia e comunque tutte le scienze in particolare offrono una grandissima opportunità per questo per mitigare eliminare o anche prevenire in alcuni casi danni di questo di questo tipo internamente al laboratorio del nostro istituto lavoriamo molto per la decontaminazione e la mitigazione e l'abbattimento dei danni da armi chimiche questo sia dal punto di vista sia sull'uomo in modo particolare quindi riducendo il rischio si riduce anche la minaccia nel senso globale e anche dal punto di vista strategico diventano sempre meno appetibili l'utilizzo diventa meno appetibile l'uso di questo tipo di ordigni ma altrettanto per quanto riguarda la contaminazione ambientale perché poi ripulire un teatro di guerra o ripulire un sito dove un'industria di un sito produttivo di un'industria mi vengono in mente soprattutto quelle degli anni 20-30 del secolo scorso dove non c'era alcun tipo di attenzione per appunto l'impatto ambientale non si parlava assolutamente di chimica verde o chimica sostenibile ecco in quel caso i meccanismi di in primis di analisi quindi tutta una parte di chimica analitica di chimica ambientale per capire cosa effettivamente sia successo quindi per conoscere poi il nemico che dobbiamo andare a depurare a bonificare e a mitigare poi tutto quello che può essere ripeto dal punto di vista chimico biologico ingegneristico una veramente un'opera di ripulitura per e che è possibile è stato fatto in molti in molti siti molte volte più più confinati dal punto di vista dell'estensione e questo può dare veramente un grandissimo impulso a tutta la filiera da chi lavora veramente nel bancone di laboratorio con poche molecole per avere le proof of principle le idee di basilari i principi primi di queste di queste nuove metodiche fino a poi a chi lavora a chi movimenta metri cubi e metri cubi di terreno per andare a bonificarlo per andare a decontaminarlo ci sono tantissime opportunità qual è la strettoia di questo imbuto i fondi i fondi quindi investire in ricerca investire in ricerca anche specifica per il bene dell'umanità e questo è uno anche delle finalità e delle missioni dell'OPAC nell'organizzazione di provvissioni delle armi chimiche dove almeno una volta tanto un'organizzazione sovranazionale come questa perché come sapete a livello paragonabile dell'ONU sovranazionale cerca di dare voce agli accademici agli studiosi agli esperti dal punto di vista tecnico che vadano a dare un consiglio ai decisori dal punto di vista sovranazionale che poi in cascata vanno a dare paesi membri dei 193 paesi membri della convenzione sulle armi chimiche per poi agire internamente alle zone di pericolo di rischio o di rischio attuale o di rischio anche futuro quando funziona questo sistema è molto virtuoso purtroppo si può inceppare per mancanza di fondi spesso mancanza di volontà politica oppure addirittura proprio un'opposizione sempre dettata dalla politica o da nazionalismi particolari che inceppano questo meccanismo virtuoso però le opportunità ci sono su scienza e tecnologia grazie mille grazie molto brevemente volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto il professor Montanari io non sono un rettore ma sono il delegato del mio rettore per l'accoglienza degli studenti e studentesse e delle colleghe e colleghi che arrivano dall'Ucraina e da altre situazioni analoghe tipo noi abbiamo molti afghani che stanno arrivando anzi dico pubblicamente grazie al professor Montanari perché stiamo collaborando quanto ci offrono i corsi in italiano gratuiti quindi prima di venire da noi passano da loro per imparare un po' di italiano però ecco detto questo io vorrei enfatizzare ancora di più il fatto che le università devono mantenere la propria missione non devono schierarsi e soprattutto devono mantenere l'equilibrio in queste situazioni che noi abbiamo visto molte aberrazioni dall'inizio della guerra il professor Montanari ha citato il caso del colpo su Dostoievski non diciamo qual è l'università perché non sarebbe carino ma io l'ho ringraziata pubblicamente io l'ho ringraziata pubblicamente perché così l'abbiamo avuto noi il seminario quindi c'è sempre qualcosa di buono però ecco abbiamo avuto anche magari aberrazioni meno evidenti ma ugualmente gravi il fatto che ad esempio chi deve sostenere lo studio anche qui a livello regionale si stia rifiutando di provvedere qualsiasi tipo di assistenza per gli studenti russi e questa è una cosa che è inaccettabile io dopo l'inizio della guerra ho promosso un evento di quelli come facciamo tante volte e avevo chiesto una testimonianza di una nostra studentessa russa che mi ha detto non vengo pubblicamente perché mi vergogno di essere russa in questo momento però mando la testimonianza scritta lei non può tornare in Russia perché su Facebook si è schierata contro Putin quindi se va in Russia viene arrestata quindi si trova qui in Italia non riceve più aiuti dai genitori soprattutto perché in realtà era lei che aiutava i genitori non può più lavorare perché tutto ciò che otteneva svolgeva delle attività di sostegno linguistico diciamo tutte le attività che svolgeva venivano pagate in rubli lei mi ha detto guarda io sono stata abbastanza intelligente da andare a ritirare tutto ciò che avevo prima che venisse applicate le sanzioni però mi sono resa conto che il valore dei miei risparmi si era ridotto ad un terzo rispetto a ciò che era precedentemente ho ritirato tutto posso vivere qui a Siena per tre mesi poi finisco tutti i soldi che ho e nessuno mi aiuta perché facciamo pure i nomi il DSU si rifiutava ora poi c'è il problema degli alloggi se andrebbe troppo lontano ma insomma il DSU si rifiutava di fornire alloggio accesso gratuito alla mensa e tutto il resto per cui noi dell'Università di Siena ma il professor Montanari ha detto la stessa cosa anche nell'Università Pestanieri diamo delle borse di studio ugualmente andando contro quelle che sono le indicazioni che arrivano dall'alto purtroppo le difficoltà derivano dallo stesso mondo accademico a volte perché quando si discuteva dell'opportunità di aiutare i russi è venuta fuori quella dichiarazione di 50 rettori delle principali Università russe che si sono schierate a fianco di Putin per l'intervento armato quindi questo blocca anche tutti i rapporti che abbiamo con le Università di quel paese però per darvi un'idea delle conseguenze che una situazione di questo genere ha nei confronti delle persone normali dei nostri studenti quando è iniziata l'aggressione russa noi avevamo diversi studenti che si trovavano presso Università nel territorio russo per scambi internazionali e li abbiamo contattati tutti e il primo giorno ci hanno detto ma noi qui stiamo benissimo la guerra non è russa si sta qui e si continua la nostra attività normalmente dopo 4-5 giorni hanno iniziato a contattarci dicendoci guardate ci stanno buttando fuori a calci dalle menze ci minacciano di picchiarci o di ucciderci perché? perché l'Italia è tra i paesi che applica le sanzioni nei confronti della Russia e quindi ci identificano con questo movimento antirusso quindi si potrebbe andare molto lontani ma tutta la situazione che si è verificata alla fine si ripercuote proprio nei confronti delle persone innocenti la guerra non è degli studenti neanche dei docenti per la maggior parte o dei ricercatori o delle ricercatrici la guerra è dei governi e anzi di una parte dei governi e noi questo dovremmo capirlo soprattutto l'università lo dovrebbe capire al momento in cui ci si schiera con certe logiche cioè si perde proprio la nostra funzione e la razza stessa della nostra esistenza se posso aggiungere una cosa dovremmo come dire approfittare di queste situazioni per interrogarci più a fondo sul ruolo dell'università paradossalmente che cosa noi possiamo fare ma anche che cosa questa situazione ci insegna il principale negoziatore di Putin che è il suo ministro della cultura un oligarca assai discusso e discutibile ha ricevuto qualche anno fa una laurea non riscausa da un'importante università italiana che qui non facciamo nomi per le interferenze come dire di rapporti molto importanti di una galassia come dire anche economica tra le proteste di una gran parte dei docenti di quell'università che dicevano che non era affatto il caso di legarsi così tanto a un governo come quello di Putin a proposito delle amicizie con Putin allora diciamo la lontananza la sana lontananza dal potere è un'antica lezione del mondo accademico oggi bisognerebbe ritirarla quella laurea riscausa e ci sono delle richieste in questo senso e d'altra parte l'università costruisce continuamente strumenti che permettono a tutti di comprendere quello che sta succedendo la nostra università è l'unica che ancora oggi in Italia continua le certificazioni della lingua russa tutte le altre sono state interrotte in tutta Italia perché? perché c'è un problema di pagamento perché non è possibile il pagamento i nostri rapporti grazie soprattutto alle nostre colleghe di russo sono così buoni che si pagherà alla fine della guerra quando si potrà e noi continuiamo a certificare il russo unici mi sono preso io la responsabilità perché in questo momento abbiamo bisogno di più persone che in Italia sappiano il russo non di meno persone abbiamo bisogno di leggere abbiamo bisogno di verificare abbiamo bisogno di imparare questa lingua oltre a dire che non si deve alimentare e qui siamo proprio nel tema di oggi la retorica di uno scontro di civiltà perché non è uno scontro di civiltà se non altro perché la Russia è una parte integrante della civiltà europea era una retorica pericolosissima e falsa anche ai tempi delle torri gemelle su questo vi rinvio tra i tanti documenti alle bellissime lettere contro la guerra di Tiziano Terzani un toscano che sapeva che cosa voleva dire dialogare con le altre culture profondamente erano e oggi si usano gli stessi argomenti ma che erano già tutti discutibilissimi contro l'Islam ma contro la Russia cosa sarebbe uno scontro di civiltà contro chi contro Tolstoi Dostoievski Pushkin allora diciamo tutti gli strumenti di comprensione sono fondamentali che non vuol dire affatto accogliere la propaganda di Putin anzi avere gli strumenti per decostruirla per smontarla e questo è se noi smettiamo di studiare di insegnare la cultura russa avremo armi di meno per contrastare l'autocrazia di Putin e invece dobbiamo sostenere il mondo accademico che si sta ribellando ci sono i rettori che firmano quel documento ma ci sono anche dalle stesse università i professori che ci scrivono dicendo noi non siamo d'accordo e lo cercano di dirlo anche in pubblico con i mezzi che hanno è una situazione terribile per questo appunto accanto agli studenti ucraini aiutare gli studenti russi e i docenti russi anche perché l'opposizione al regime è a linea proprio là dove tradizionalmente si insegna a pensare con la propria testa la poca resistenza intellettuale a Putin c'è proprio nelle università che vanno come vanno sostenute criticamente ma vanno sostenute non come istituzioni ovviamente ma come dire lo dico dal rettore le università non sono i loro rettori per fortuna grazie mille tra l'altro io volevo ricordare anche il ruolo dell'accademia che per ora nei confronti stiamo svolgendo delle attività per i bambini ucraini dei laboratori dedicati a loro e anche noi abbiamo bisogno delle persone russofone che parlano la loro lingua quindi in questo caso si potrebbe anche avviare una collaborazione con gli studenti che parlano appunto il russo o anche con le colleghe russe che per ora si trovano in Italia potrebbero fare da mediatrici in questi contesti riuscire ad aprire un corso di ucraino presto perché è un'altra lingua sono lingue vicine ci dicono un rapporto paragonabile a quello dello spagnolo con l'italiano e del castellano con l'italiano ma non è la stessa lingua insegnare l'ucraino cosa che in Italia si fa quasi per nulla è un'altra cosa che si può e si deve fare in questo momento per loro insegnare imparare l'italiano per noi per tutti quelli che vogliono lavorare nella mediazione culturale imparare la loro lingua tra l'altro lo dicevo all'inizio l'imperialismo linguistico di Putin la sradicamento dell'ucraino l'imposizione del russo in un contesto quasi da guerra civile in cui moltissime famiglie ucraine comunque parlavano russo e non solo nelle zone russofone ovviamente ha un significato particolarmente importante cioè difendere una tradizione culturale le ucraniche arrivando a noi in realtà parlano tutte anche il russo quindi vi potrebbero essere d'aiuto anche loro e questo dimostra ancora di più quanto è paradossale questa guerra sono a casa loro praticamente allora io ora passerei la parola alla mia collega Chiara e grazie ancora a tutti quanti buonasera a tutti io mi chiamo Chiara Nincini sono l'altra volontaria che per quest'anno è stata affidata al museo di storia naturale dell'accademia dei fisiocritici dalla fondazione musei senesi ed è mio piacevolissimo nero nere parlare a nome dei miei colleghi e mio per fare dei sentitissimi ringraziamenti in primo luogo vorremmo ringraziare l'accademia dei fisiocritici e il professor Giuseppe Manganelli per averci concesso per questa nostra iniziativa congiunta l'utilizzo dell'aula magna di questa bellissima sala e sappiamo perfettamente sin da dicembre quando siamo arrivati quanto sia importante per la vita di tutti i giorni dell'accademia questa sala è sempre a disposizione di chiunque voglia fare interventi voglia fare confronti voglia fare discussioni noi siamo al servizio della città e vogliamo essere come dire attori di questa possibilità di incontrarsi discutere parlare confrontarsi e voi devo dire avete fatto un lavoro splendido grazie io e Cristel ci teneremo in particolare anche a ringraziare Chiara, Andrea e Alessandro e Francesco e Valentina che sono coloro che ci accompagnano in questa nostra avventura all'interno dell'accademia che tra alti e bassi ci hanno appunto seguito nell'organizzazione e nell'allestimento di questa iniziativa prima ho detto che è un'iniziativa congiunta ci teniamo a ringraziare anche le stanze della memoria la dottoressa la direttrice Laura Mattei e l'istituto storico della resistenza sinistra in particolare il direttore professor Pietro Clemente e il dottore Alessandro Orlandini che sono stati fondamentali e di supporto per quanto riguarda il nostro collega Lorenzo che alla loro sede ha segnato è importante per noi e sono ringraziamenti veramente sentiti ringraziare tutti i relatori per la disponibilità che ci hanno dato a far sì che questa iniziativa potesse effettivamente realizzarsi quindi grazie al professor Tommaso Montanari grazie al professor Federico Lenzerini grazie ancora al professor Giuseppe Manganelli e al dottor Matteo al dottor Matteo Guidotti il vostro contributo è stato effettivamente importante per noi realmente ci terrei a ringraziare anche i miei colleghi per appunto tutti gli altri bassi dell'iniziativa per il supporto e per quant'altro ci aspetta in questi ultimi mesi sei di servizio civile un grazie anche a tutti voi che siete venuti qua oggi che siete presenti in aula e che avete partecipato ma anche a coloro che hanno partecipato in collegamento da casa io ho una formazione da storica dell'arte i miei colleghi Cristel e Lorenzo invece hanno una formazione più storico giuridica noi speriamo anche per la nostra vita futura che il nostro obiettivo non sia solo il saper riconoscere il distinguere la mano di un artista da un altro o il sapere perfettamente quali sono determinato tipo di sentenze determinato tipo di avvenimenti storici per noi l'importante sarebbe continuare a rimanere cittadini attivi e quindi ricercare occasioni di scambio quindi speriamo che per tutti voi questa nostra iniziativa di oggi sia stato questo cioè sia stato un pomeriggio piacevole però di scambio di cui ognuno si porta a casa qualcosa che non sapeva qualcosa di nuovo per me per Cristel per esempio l'intervento del professore per quanto riguarda la famona dell'Ucraina perché per noi questo è appunto un mondo quello dell'accademia e delle scienze naturali totalmente nuovo e speriamo appunto di aver sensibilizzato un po' sul tema del patrimonio culturale che in qualsiasi declinazione lo si voglia considerare oggi ne abbiamo viste ben quattro rimane comunque qualcosa di fragile e che come tale deve essere custodito e tutelato grazie a tutti e buona serata